E allora mo, dove siamo? Nasta l'imbarazzata però, guarda in camera un po' Ciao ragazzi, oggi Palermo Fotomarathon, come potete vedere abbiamo preso un po' di lenti e adesso facciamo un giro nella città, siamo a Palermo e cerchiamo un po' di capire cosa possiamo fotografare, ora ci sono dei temi come lo street food, le maschere, in questo momento mi stanno riprendendo Poi qual'era l'altro, maschere, street food, la trinacria, è rotolando verso sud, che non abbiamo ben capito cosa possa essere, ma ci proviamo, ci proviamo Passiamo subito alla gear section del video, allora Gaia è su Nikon, metti una musica sexy di sottofondo Sì, allora intanto abbiamo preso, Gaia scatta su Nikon, sulla D7200, ha preso un 85 1.8 Ok, adesso ha preso mia sorella, ha preso una lente incredibile, che è l'85 1.2 e poi ha preso una 6D, sei contenta di questa scelta o magari... Avrei voluto un 50 mm Però l'avevano già rubato L'avevano rubato E io invece ho preso una Canon 5D SR con un 16-35 per il momento, diciamo che lo scopo iniziale del video era prendere un 50 mm Ma non c'era l'1.2, quindi il prossimo che prenderò sarà il fisheye E diciamo che con una bella lente così, così aperta, verranno delle belle volte Adoramo, racconta Stamazzina, giorno nemmeno fatto con l'azione, ero così addormentata che allo stand Canon il ragazzo mi ha chiesto che macchina fotografica avessi e io ho risposto Canon Comunque ragazzi, 50 megapixel è un po' una botta per credo qualsiasi processore Speriamo che il mio PC ce la faccia, nonostante non sia un po' top di gamma E poi ragazzi, come si fa a non essere sessualmente attratti da questa lente? Cioè io non lo capisco Siamo di fronte alla cattedrale di Palermo e siamo ancora in cerca di ispirazione Abbiamo fatto un qualche scatto con mia sorella, ma ancora manca qualcosa E quindi siamo alla ricerca di cosi street food, delle maschere, roba interessante Proprio ancora, ma non ci arrendiamo Proprio ancora, ma non ci arrendiamo Secondo round, uno di... Di nuovo l'85 è la 6D Però stavolta abbiamo preso anche una bella Fuji Poi questo suono magnifico Ho già riempito la scheda mi sa perché è una scheda piccola E ragazzi ci troviamo alla fine di questo viaggio Mi sorella mi fa le foto e mi mette un po' a disagio Ok È stato bello, abbiamo provato tante reflex, però è finito Vuoi dire qualcosa mo? Dai, don't be shy, dai, di qualcosa Vuoi dire qualcosa tu che hai fatto da modello e che... È la tua prima esperienza da modello o non so io? Io sono un professionista, in realtà ho già lavorato per molte riviste Qua sono stato chiamato solo per un favore Beh, hai fatto bene, dai Vuoi dire qualcosa a fine giornata? No, è stata una bella giornata Ci ha permesso di scoprire la nostra bellissima città Non abbiamo... Riscoprire, dai Riscoprire, dai Riscoprire, sì E diciamo ci siamo fatti prendere un po' da quello che abbiamo visto Sto lasciando perdere un po' i temi della challenge Però è stato un bel posto